Buongiorno 7.57, mancano pochi secondi. Buongiorno, benvenuti a questo dibattito di martedì 27 settembre con una notizia, una delle notizie che sicuramente commentiamo quest'oggi, che è arrivata pochi istanti prima di mezzanotte, cioè prima della scadenza, cioè il fatto che il Tribunale del Riesame di Napoli ha deciso che l'inchiesta in corso appunto a Napoli va spostata a Bari, che Tarantini verrà scarcerato e che Silvio Berlusconi per quella vicenda e escort che riguarda appunto Tarantini da testimone potrebbe diventare indagato. È una bomba anche politica, non solo giudiziaria, che si aggiunge all'altro fatto del giorno, cioè la relazione del Cardinale Angelo Bagnasco di fronte alla CEI con quelle parole evocative, perché il nome non è mai stato fatto, non è mai stato fatto del Presidente del Consiglio, affermazioni più sobrietacee da purificare l'aria e insomma una serie di critiche che sono diventate uno dei fatti politici del giorno. E fatto politico del giorno sarà il possibile incontro di oggi fra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. C'è da mettere a punto questo pacchetto crescita indispensabile per cercare di uscire dalle secche della crisi. Vi presento subito gli ospiti con i quali discutiamo. Buongiorno a Federico Geremicca, editorialista della Stampa. Buongiorno a Francesco Pionati, segretario dell'ADC e portavoce di Popolo e Territorio. Buongiorno al senatore Nicola Latorre, vicepresidente del gruppo parlamentare del PD a Palazzo Madama. Buongiorno ad Antonio Leone, vicepresidente della Camera ed esponente del Popolo della Libertà. Buongiorno a Fabio Granata, deputato di Futuro e Libertà per l'Italia. Buongiorno a Milano, a Paolo Liguori, direttore di TG.com. Buongiorno a Milano. Leone, Berlusconi aveva detto che Napoli poteva essere un trappolone giuridico-mediatico. Ha pensato bene, evidentemente. E ora che cosa succede? L'ennesima tegola giudiziaria in vista per il Premier? Il prosieguo di quel percorso che è una parte della magistratura che intende fare politica deve continuare, sta continuando. Ormai è accerchiato Berlusconi da una serie di indagini pseudotali che possono solo portare a una delegittimazione politica ma non certo a portare Berlusconi nelle aule giudiziarie per conseguenze legate a ipotesi di reato molto ma molto forti. Siamo alle solite, una cosa è certa, bene ha fatto evidentemente Berlusconi a non presentarsi ai magistrati di Napoli che non erano competenti ad andare avanti, bene ha fatto anche perché sicuramente quell'essere sentito come testimone si sarebbe trasformato evidentemente in un'altra ipotesi che è quella di passare da testimone a imputato. Era lì che Lepore e Compani volevano arrivare, è stato sventato per adesso, si vedrà nel prosieguo. Granata che ne pensa? Innanzitutto penso che chiamare alla procura di Napoli Lepore e Compani, parlare di trappolone, rifiutarsi come qualsiasi cittadino deve fare di adempiere a un obbligo, quello di essere ascoltato perché l'autorità giudiziaria ti convoca, è indicativo di un messaggio che Berlusconi lancia all'Italia, che è un messaggio di impunità, che è un linguaggio che poi favorisce tutta una serie di conseguenze. Noi siamo l'unica nazione al mondo ad avere in questo momento un ministro che è accusato da tutta una serie di questioni. Parliamo di Saverio Romano. Parliamo di Saverio Romano. Quindi è un contesto in cui poi pensa bene Brunetta di aggiungere con una inedita capacità negativa di tipo comunicativo la vicenda dei certificati antimafia e nel contesto complessivo in cui ovviamente la Chiesa non si riferisce ai comportamenti di Berlusconi ma probabilmente si riferisce ai comportamenti miei o di Latorre o di Pionati o di Leone, si tratta come dire di una constatazione quasi di incredulità da parte degli italiani. Io credo che bisogna inquadrare le questioni per quello che sono. Esiste un'inchiesta, esiste la magistratura, va rispettata perché da questo linguaggio, da questo approccio nei confronti di qualsiasi inchiesta giudiziaria che coinvolga o Berlusconi o qualsiasi personaggio della maggioranza esce uno spaccato avvilente per quello che sono i rapporti istituzionali. Cioè non è la magistratura che deve fare un basso indietro, è la politica che deve farne un avanti rivendicando innanzitutto l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, accettando di sottoporsi alle indagini e alle inchieste che sono in corso e rifiutando questo teorema che a me sembra oramai patetico della grande congiura giudiziaria. Cioè ci sono in Italia 20, 30, 40 procure con magistrati di tutti gli orrendamenti politici che l'unica finalità che dovrebbero avere a detta di alcuni osservatori è quella di far cadere il governo e di far politica. Noi rifiutiamo questa tesi, rispettiamo la magistratura e riteriamo che Berlusconi per tutta una serie di questioni molto complesse debba fare un basso indietro. Liguori, era il trappolone questo di Napoli anche per lei, come ci diceva Leone prima? Ci sono delle modalità, dei comportamenti della magistratura che di per sé fanno perdere fiducia nella giustizia italiana. Purtroppo c'è un problema politico che riguarda la solidità di questo governo e la crisi economica, il ruolo di Berlusconi e quello non si può eludere, ma c'è un altro problema politico parallelo che non riguarda solo Berlusconi, riguarda la società italiana nel modo con cui vengono condotte queste indagini e queste inchieste che è un modo scandaloso. Lo dico non per la maggioranza di governo, certamente Berlusconi è l'obiettivo principale ma non è l'unico. All'interno della maggioranza chiunque in qualche modo possa avere un ruolo politico diventa obiettivo ad arte, vale per il caso del Ministro Romano che per le carte che conosco se non fosse stato Ministro e decisivo per la maggioranza non sarebbe neppure incriminato ed è incriminato a orologeria come vale per tutti i Presidenti della Regione Sicilia che non appena vengono eletti dopo un po' hanno un mandato di cattura come se fosse un avviso di garanzia, come se fosse una caratteristica normale e fisiologica. Ma dico che vale anche per l'opposizione. Purtroppo la situazione italiana si sta portando alla paralisi perché anche all'interno dell'opposizione viene effettuata una scelta delle persone e dei gruppi da combattere e da contrastare. Io credo che su questo il senatore del PD ne sappia bene e io non dico parola di più perché mi pare molto chiaro. Quello che dico questo modo di comportarsi e di procedere della magistratura è un modo molto pericoloso per la società italiana. Ora io leggo i giornali e assisto a questo dibattito in cui si chiede a Berlusconi di fare un passo indietro. Sono terrorizzato dall'idea che possa essere una cosa unilaterale e che Berlusconi faccia un passo indietro e che questo modo di procedere della magistratura sia invece considerato normale la prosecuzione di quello che poi succederà anche in futuro e che nessuno intervenga su questo perché se noi ci trovassimo in una società, non a caso tra l'altro, è ovvio che l'appello di Bagnasco deve essere letto in proporzione alle responsabilità. È ovvio che io o Geremic o i commentatori che siamo qua abbiamo meno responsabilità di chi governa e anche chi è all'opposizione meno di chi governa. Quindi non sono stupido e so che Monsignor Bagnasco parla a tutti ma in proporzione alle proprie responsabilità. È ovvio. Ma è ovvio anche che non ha dimenticato di mettere una frase nella sua prolusione che fa riferimento anche al modo con cui vengono condotte queste inchieste e queste indagini, che è un modo che veramente fa pensare a un meccanismo orologeria. A Napoli è tipico, hanno preso la decisione il giorno prima della scadenza dei termini dove la decisione sarebbe presa lo stesso. È stato alzato un'ipotesi di reato assolutamente inconsistente perché si voleva arrivare ad un'altra, che si chiami trappolone o no. Questa è la sostanza delle cose e antrettanto a Bari è stato fatto. Quindi ci sono proprio procure che ormai agiscono. Ma viene fatto anche a Milano, viene fatto anche a Sesto San Giovanni. Secondo me ci sono delle cose esagerate e forzate anche nei confronti dell'inchiesta su penati. Per cui io sono in questo senso equanime, non godo nell'approfondire nessuna inchiesta contro nessun avversario politico perché è un metodo barbaro, inaccettabile che in Italia è diventata consuetudine. E su questo è grave perché certamente c'è una posizione da discutere, la leggo su tutti i giornali dei grandi editorialisti su Berlusconi, ma su questo problema non sento parola ed è gravissimo anche perché se si vuole arrivare ad una collaborazione diversa tra maggioranza e opposizione bisognerà pure avere nell'opposizione qualche interlocutore. E io vedo che quelli che negli anni si sono candidati a diventare interlocutori di processi più grandi, più larghi e più generali vengono impallinati esattamente come se fossero membri della maggioranza. Questa cosa, devo dire, ci porta allo stallo. Sentiamo la torre. È d'accordo con l'analisi che ha fatto Liguori per la parte in cui in qualche maniera coinvolge anche l'opposizione? Ma guardi, io credo che nell'avvio della discussione che proponeva lei, riassumendo i temi del dibattito pubblico, e nelle prime, in tutte le considerazioni che abbiamo ascoltato, c'è il sunto della drammatica patologia del nostro Paese. Cioè noi siamo nel pieno di una tempesta che non riguarda solo il nostro Paese, c'è una situazione economica e ci sono tensioni sociali drammatiche e tutto il dibattito pubblico è ostaggio delle questioni che abbiamo sin qui ascoltato. Ora, io credo che il problema vero è che noi non siamo oggi nelle condizioni di affrontare nessuna delle questioni vere che dovrebbero richiamare l'attenzione e la centralità del dibattito pubblico, che siamo in presenza di un quadro politico che è drammaticamente lontano dai sentimenti del Paese. C'è una rottura profonda tra la società italiana, quello che sta angosciando gli italiani, e i temi oggetto del confronto pubblico. Ma la magistratura entra a gamba tesa come diceva Liguori? Ma guardi, il problema della magistratura è chiaro che in un quadro di questa natura tutti gli interventi appaiono interventi a gamba tesa. In realtà ognuno qui cerca di fare quello che ritiene opportuno fare, ma noi siamo completamente sfasati rispetto ai problemi. E guardi, prima di discutere del merito delle questioni, noi dobbiamo prendere atto del fatto che oggi noi abbiamo una maggioranza di governo che è completamente isolata rispetto al Paese. Abbiamo una maggioranza di governo che è drammaticamente ed esclusivamente autoreferenziale. Abbiamo una maggioranza di governo che basta che si apre una discussione su mezzo problema. Parlano linguaggi diversi. La vicenda di ieri colpisce il ministro della pubblica amministrazione che vuole cancellare i certificati antimafia, il ministro degli interni che lo prende a pesce in faccia in maniera anche abbastanza violenta. Mi riferisco alla polemica di ieri. Se si parla di questioni che riguardano l'economia abbiamo delle divisioni drammatiche. Penso alla polemica Crosetto, Galan, Tremonti. Non c'è un tema, uno dico, sul quale questa maggioranza riesce a produrre una sintesi e allora ci si butta in questa discussione sulle inchieste, sul comportamento dei magistrati. Che tra l'altro, anche la vicenda di Napoli, dimostra che in realtà poi ci sono anche tutti gli strumenti delle garanzie che in qualche modo funzionano perché per esempio ci si è pronunciati sulla competenza territoriale. Lo scenario è drammatico e in questo senso io penso che non è solo Berlusconi che deve fare un passo indietro. Io credo che questa maggioranza e questo centrodestra debba fare una marcia indietro nel senso che è certificato il fallimento di questa esperienza e poi ne discuteremo nel corso della giornata. Distrazioni di massa, dice lei, in qualche maniera. Pionati ha tre aggettive, ha detto adesso la Torre. La maggioranza è isolata, autoreferenziale, parla linguaggi totalmente diversi. È così? Beh, insomma, l'opposizione nemmeno scherza. Basti pensare alle spaccature nel PD a proposito della partecipazione o meno allo sciopero indetto dalla CGL. Non credo che possano dare lezioni in questo senso. Abbiamo messo tante cose, tanta carne al fuoco. Io credo che serenamente bisogna dire che se in Italia esiste come esiste un problema di anomalia complessiva, la magistratura ne fa parte a pieno titolo. E lo fa in maniera bipartisan. E lo ricordo che il governo Prodi cadde per un attacco di una procura campana... Scusi, facendolo in maniera bipartisan forse fa solo il suo mestiere, visto che colpisce tutti. Non fa il suo mestiere, destabilizza continuamente il governo Prodi cadde per un attacco che finirà in una bolla di sapone al ministro della giustizia Mastella. Cioè c'è una continua invasione di campo che è anche dovuta, questo è oggettivo, alla debolezza della politica che non riesce a recuperare ruolo e quindi dà a chi è politicizzato una netta minoranza nella magistratura la possibilità di gestire ormai l'informazione pubblica. Perché non è che si discute dei fatti in maniera patologica, sono i fatti ad essere patologici e quindi a costringere anche i giornali alla discussione. Quindi io sono convinto che la magistratura sia a pieno titolo oggi in una condizione di prevalenza, di strapotere dovuto all'arretramento della qualità della politica e delle istituzioni. Geremicca è un'autocritica in fondo quella che ha fatto Pionati. Politica debole, politica debole. Poi vorrei completare rapidissimamente, nemmeno il quadro viene confortato da una posizione, un progetto, una opposizione che si sappia porre come alternativa. Questo è il vero problema italiano, che nonostante il centrodestra abbia difficoltà che vanno riconosciute e vanno superate, nonostante Berlusconi abbia oggettivamente delle condizioni anche di responsabilità, ma io sono convinto che nonostante tutto questo il centrodestra e Berlusconi siano gli unici oggi, nonostante gli acciacchi, ancora in grado, e lo vedremo di qui a qualche giorno, di proporre un qualcosa di unitario per lo sviluppo economico del Paese. La ricetta del centro-sinistra non c'è, la ricetta di un'opposizione che vada di più. Adesso magari ce la facciamo dire dalla torre Granata, se le opposizioni hanno ricette. Geremicca, è un'autocritica quella che faceva Pionati? Politica debole? Io francamente me lo auguro, spero che sia un'autocritica, perché il discorso che fa Paolo Ligori da Milano ha un senso, io non lo condivido fino in fondo, naturalmente riconosco, come ovvio che sia, che anche in magistratura c'è chi può sbagliare, come sbagliano i medici, come sbagliano gli avvocati, eccetera. Il punto è che se si ritiene che ci siano delle cose da sistemare nel funzionamento più complessivo della macchina giudiziaria, tocca a chi ha il governo farlo. Sono tre anni che noi sentiamo parlare di grandi riforme, alternativamente il CSM che cambia, il mutamento dei sistemi elettorali, eccetera, eccetera. Poi alla fine vai a vedere gli unici testi che arrivano in Parlamento riguardano purtroppo la situazione stretta, nella quale si trova il nostro Presidente del Consiglio. A proposito del quale, io non so se si può parlare, come dicevi tu, di armi e distrazione di massa, ma certamente la polemica contro la magistratura è un terreno più favorevole per il Presidente del Consiglio rispetto, per esempio, ai suoi rapporti con Giulio Tremonti. Per dirne una, tu presentavi come notizia una cosa che dovrebbe essere del tutto normale, diciamo, in un governo normale, cioè il Presidente del Consiglio, che in una situazione di crisi incontra il Ministro dell'Economia. Invece, insomma, come dire, buttare la palla in tribuna, quindi tornare a parlare dei processi, eccetera, eccetera, secondo me continua ad essere un terreno più favorevole a Presidenza del Consiglio rispetto, diciamo, a fare i conti con la crisi e quello che andrebbe fatto. Quello che colpisce, proprio per quello che riusciamo a intender noi, proprio per evitare di affrontare i problemi che sono sul tappeto, è questo rilanciare sempre più avanti la cosa di Brunetta di ieri, perché colpisce? Perché, come dire, escludendo che Brunetta sia un Ministro che voglia fare un favore alla mafia, diciamo, questo mi pare, io vorrei capire che necessità c'era di un'uscita così polemica, così controproducente, che sposta la discussione, diciamo, su altri campi. Forse è proprio quello l'obiettivo, cioè spostare la discussione su altri terreni, che non siano quelli delle difficoltà del governo. Leone, in Parlamento sta arrivando adesso di nuovo le intercettazioni e sono così urgenti in una situazione, come dire, di crisi come quella attuale? Cioè il primo provvedimento del rilancio del governo dopo il caso milanese, perché c'è stato subito un vertice a Palazzo Grazioli che ha preso, come dire, vigore e slancio dopo un voto, come dire, favorevole che ha evitato, che ha detto no alla richiesta ai magistrati di arresto per l'onorevole milanese. Le intercettazioni, non è che sono arrivate adesso in questo frangente. Sono intermittenti però, eh? No, sono intermittenti proprio per quale motivo? Per quello che accade. Se non accadesse quello che è accaduto con la pubblicazione di tutto e di più rispetto a cose che non hanno nulla a che vedere con ipotesi di reato, mi volete dire per quale motivo non dovrebbe tornare a bomba o a galla quello che, grazie anche al Fli, sono state bloccate e fermate. E' un merito. No, no, è un demerito, quale merito? Questo lo giudicheranno gli italiani. Adesso lo giudico io, poi lo giudicheranno gli italiani. È un demerito perché altrimenti noi non staremmo a parlare di quello che stiamo dicendo. Poi questo fatto che si dice in un momento di crisi, allora si deve pensare, no, si deve pensare contemporaneamente all'uno e all'altro. Se poi, come dice la Torre, il problema non è quello della magistratura, delle intercettazioni, il problema di fondo reale è quello di cercare, di superare la crisi. Allora mi volete dire perché non intrecciare le cose se quello che accade, ingiustamente, dico io, può influire su non pensare a risolvere la crisi? Cioè la politica va fatta in contemporanea, non abbiamo fatto mai niente. Noi in questi tre anni abbiamo fatto solo e soltanto le leggi per Berlusconi. Ci dimentichiamo il federalismo fiscale, ci dimentichiamo la riforma della legge di bilancio, la riforma della scuola, piaccia o non piaccia. Tutto quello che è stato fatto passa inosservato solo perché dopo quello che accade sistematicamente da parte della magistratura si pensa di tirare in ballo le intercettazioni. Scusatemi, 100.000 intercettazioni che non servono a creare ipotesi di reato sono state fatte da Napoli. Noi solo, l'America, l'America fa un numero di intercettazioni pari alle intercettazioni fatte per esempio dalla procura di Lecce, che non è certo una delle procure più grandi d'Italia. In Germania, visto quello che era accaduto nella DDR comunista, i 200.000 persone fisse a intercettare tutti, adesso qual è il sistema? È quello di fare le intercettazioni. Poi c'è un giudice terzo che vaglia quelle che si possono pubblicare, quelle che non si possono pubblicare, salvando la privacy. Allora perché se l'esigenza c'è contemporaneamente a pensare alla manovra è stata fatta? Non basta, dobbiamo andare avanti per lo sviluppo, perché non pensare contemporaneamente anche a fare altro? Parliamo di crisi economiche, in Italia 60 miliardi calcolati in maniera approssimativa. Se si butta sulla crisi però mi sorprende perché io volevo terminare la parte intercettazione. No, mi butto sulla crisi, sto parlando delle intercettazioni. 60 miliardi che vengono meno al bilancio dello Stato dalla corruzione, oltre 120 tra mafie ed eco-mafie. Tutto ciò, tutto questo quadro viene contrastato soprattutto attraverso uno strumento che è quello delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Il procuratore Grasso ha lanciato un appello alle forze politiche, penso sia persona di grande equilibrio e certamente non una toga rossa, per dire che è pericolosissima la proposta se non viene considerato che si arriva ai reati di mafia attraverso i cosiddetti reati satellite, cioè se non si indaga sul traffico illecito dei rifiuti non si arriva a contrastare alcune ipotesi di reato. C'è la polizia, c'è la polizia, c'è la polizia, c'è una scarsa considerazione dei reati satellite. Ma quale scarsa considerazione? La legge è precisa? Sì o no? Non è preciso, Granata. Allora noi diciamo questo, ci sono stati certamente, ci sono degli eccessi nella pubblicazione degli atti, un testo equilibrato che garantisca che le indagini vanno avanti e che lo strumento non venga depotenziato. In questo senso il terzo polo, Futura Libertà, insieme agli amici dell'Udc, all'Api, hanno presentato un loro testo in cui però le indagini vanno avanti, si regolamenta diversamente il meccanismo della pubblicazione degli atti, senza limitare ovviamente la libertà di stampa perché c'è anche un problema legato, una volta che gli atti vengono depositati, alla pubblicità degli stessi. Quindi un meccanismo equilibrato è una cosa, ma dire che nel cuore di una gigantesca crisi economica il Parlamento si deve occupare prima del processo breve, dopo del processo lungo, dopo delle intercettazioni, significa gettare la maschera e ritenere evidente che un meccanismo che è venuto alla luce di malgoverno, di corruzione, di cricche, viene Allora di nuovo in studio, Pionati domani c'è attesissimo anche il voto che riguarda proprio Saverio Romano, esponente di Popolo e Territorio, la Lega ha già detto che voterà la fiducia al Ministro e quindi non dovrebbero esserci problemi, però sicuramente sul Governo pesa anche la vicenda romana, un Ministro accusato di collusioni con la mafia? Il Ministro Romano va difeso e la maggioranza lo difenderà in maniera, penso, chiara e unitaria, non c'è nessuna alternativa, perché soprattutto quello di domani è un caso politico, domani si vota su una mozione di sfiducia proposta da alcune forze di opposizione, nemmeno da tutte le forze di opposizione, quindi non siamo in presenza di una vicenda giudiziaria o di atti trasmessi alla Camera per essere valutati come è capitato per altri, si tratta di un'iniziativa squisitamente politica, a mio giudizio priva di fondamento, priva di contenuto dell'opposizione alla quale la maggioranza ha il dovere morale e politico di rispondere come risponderà respingendo questa iniziativa. Io se possibile vorrei dire due cose rapidissime sul discorso giustizia, si è parlato molto, è giusto che lo si faccia del rapporto politica giustizia, politica magistratura, io noto che in Italia è divenuto praticamente impossibile per qualunque governo fare una riforma della giustizia, come si tocca quel tasto cominciano i guai, sia governo di centro-sinistra sia governo di centro-destra, questo qualcosa significherà. Sulle intercettazioni, io sono d'accordissimo con il collega Granata, ci mancherebbe che la magistratura non possa indagare su reati di mafia attraverso rivoli collaterali come quello che riguarda per esempio l'ecomafia, ma qui abbiamo assistito e assistiamo a tonnellate di immondizie che riguarda il limite degli ecoslip, non l'ecomafia, quindi una distinzione delle forze politiche responsabili devono farla. Il caso che è avvenuto in Gran Bretagna con quel giornale di Mardoc che è stato poi chiuso per le intercettazioni fatte direttamente addirittura in quel caso da giornalisti sulla vita privata di persone per poi essere ricattate, in Italia non si sarebbe mai realizzato e non si realizzerà, perché questo è un lavoro che già fa la magistratura, basta incaricare la magistratura di certe indagini e poi pubblicare a tonnellate questa roba che non ha nessuna attinenza con la giustizia e con gli eventuali reati, perché non ci sono reati in quelle intercettazioni. Allora il problema è che una classe dirigente complessivamente indesa, seria, questi problemi se li pone non come problemi di parte, ma come problemi di istituzione, cioè la magistratura deve accettare che il Parlamento in quanto organo ed espressione della sovranità popolare metta in campo una riforma che la riguarda. Geremica ha ragione, Pionati dice che chi tocca la magistratura, tra virgolette, sia esso centro-sinistra sia esso centro-destra, muore sempre naturalmente, tra virgolette, è vero? Ma insomma, io francamente non lo so, perché poi non riesco a entrare così dentro dei pieghi delle iniziative della magistratura, però ha maggior ragione se ci fosse questo problema e se ci fosse in tutta evidenza una preoccupazione che deve riguardare sia il centro-destra che il centro-sinistra, poiché la riforma e la giustizia è uno di quei temi neutri, terzi, come la riforma elettorale, come la riforma di alcune regole della Costituzione che renderebbero necessaria un'intesa tra le forze politiche per evitare di essere, adesso la dico molto semplicemente, mazzolati una volta l'uno e una volta l'altro, perché non provano a farla assieme questa riforma? è veramente una di quelle questioni che se il problema è avvertito da entrambi gli schieramenti, non sarebbe affatto male che provassero a fare un ragionamento comune, fu tentata questa cosa all'epoca della bicamerale preseduta dall'onore, è inutile che contiamo a evocare i cadaveri, morì eccetera eccetera. Per dire solo che è un tema che però chiama una certa convergenza, adesso non voglio fare riferimento alla coesione invocata dal Presidente della Repubblica a proposito di un'altra questione che è l'economia, però insomma se non è sulla magistratura che si smorzano i toni e si trova un'intesa... Vengo da lei direttore, volevo sentire su questo, la torre è d'accordo, si può fare in maniera bipartisan una riforma alla giustizia. Ma guardi, le considerazioni che faceva Geremica sono considerazioni di buonsenso, ma se il terreno che si è scelto per animare lo scontro politico è quello della giustizia, se il terreno che si è scelto è quello di andare ad uno scontro frontale con la magistratura, ma quali sono i margini per aprire una discussione seria sul terreno della riforma della giustizia? Io voglio dire questo, noi sono anni che discutiamo di questo problema, ma il punto di caduta poi di questa discussione è quale è stato? In questi tre anni, compreso la vicenda delle intercettazioni telefoniche, tutti riconoscono la necessità di disciplinare il meccanismo di pubblicazione, questa discussione però si è trasformata in una battaglia contro lo strumento delle intercettazioni e ve lo dico io che ero in Commissione Giustizia al Senato quando abbiamo discusso di questo e da parte del centro-destra si è intervenuti con una serie di emendamenti che mettevano in discussione l'uso dello strumento delle intercettazioni. Dopodiché il punto è che non si può affrontare il tema serio, serissimo della riforma della giustizia, che allude anche certamente ad una riflessione su come si sono evidentemente squilibrati i poteri in questi anni nel nostro sistema, non si può affrontare avendo poi come punto di caduta quello di come si tutela la persona del Presidente del Consiglio, ma noi ci rendiamo conto che abbiamo discusso contemporaneamente al Senato di processo breve, alla Camera di processo lungo, solo perché i processi andavano come dire regolati sulla base e non si è affrontata invece la questione di merito di come il cittadino torna al centro del pianeta giustizia e se ne accontro delle priorità. La politica che cos'altro è se non scelta delle priorità? In questo momento un Parlamento che si mette a discutere di intercettazioni telefoniche, al di là del merito sul quale noi possiamo, e poi le mie opinioni sono peraltro note, le ho esternate anche in altre occasioni, ma un Parlamento che in questo momento si mette a discutere di intercettazioni, come viene percepito dal Paese, come un Parlamento che quasi sta decidendo di aumentarsi gli stipendi, di aumentarsi le tutele, di aumentarsi i privilegi, non funziona questa cosa, ecco perché noi dobbiamo creare le condizioni perché nel nostro Paese si torni ad affrontare le questioni in modo tale da essere percepito come una discussione di chi vuole tutelare l'interesse generale e in questo senso questa situazione politica è di ostacolo ad affrontare in questi termini una discussione pubblica. Liguori, l'impostazione di La Torre la condivide? Non sono proprio d'accordo su quest'ultima questione di La Torre, io ho messo al centro la questione della magistratura, dell'uso della giustizia perché stavo parlando della necessità di difendere l'autonomia della politica basata sul Parlamento da questa intromissione sistematica, sistematica significa di sistema e ormai endemica da parte della magistratura nei confronti della politica. Non ho mai parlato ai toghe rosse, forse ho avuto qualche dieci anni fa l'idea che ci fosse qualche magistrato che orientasse contro una parte o contro un'altra, ma mi è sparita negli ultimi anni. Qua si parla di un sistema giudiziario che si intromette condizioni alla vita politica, l'ha spiegato benissimo Pionati, quando è toccato a Prodi e a Mastella gli è toccato lo stesso. Allora non sono d'accordo su questa idea politica di La Torre che bisogna dare la priorità a cose astratte su cui non c'è la possibilità di accordo, su cui è più difficile la possibilità di accordo perché bisogna rappresentare al Paese, qua bisogna rappresentare al Paese che la classe politica è capace di fare un passo avanti e bisogna rappresentare al Paese che si può muovere e non sta ferma ad aspettare il diluvio. Allora lo dico proprio in maniera sintetica, molto pragmatica. Scusi Liguori, ma la classe politica dà queste idee in questo momento? Sì, dà l'idea che sta ferma lì e che c'è una opposizione che chiede le dimissioni del Presidente del Consiglio, ma in realtà siccome ogni italiano che va a lavorare sa che le dimissioni, l'istituto delle dimissioni è sempre un istituto concordato perché altrimenti si chiama licenziamento in tronco e il licenziamento in tronco un'opposizione lo può fare in un solo modo votandogli la sfiducia in Parlamento. Se chiede le dimissioni allora apre una trattativa sulle dimissioni, ma è la trattativa sulle dimissioni in cui uno si deve convincere che è una cosa logica dimettersi, si può fare soltanto se l'opposizione fa qualcosa, non se la maggioranza sfiducia il suo Premier. Questa cosa che è normale, di buonsenso, in qualsiasi azienda, nella politica italiana, io sento il segretario del maggiore partito di opposizione che con voce roca e sempre più arrochita continua a chiedere le dimissioni, fai un passo indietro, ma il tono è come se stesse prendendo a schiaffi e volesse licenziare il Presidente del Consiglio, il quale normalmente, come farei anch'io ad un datore di lavoro, gli risponde, beh insomma se hai la forza cacciami, se no smettila. E io penso che qualsiasi persona di buonsenso nella maggioranza e nel maggiore partito di maggioranza dovrebbe dire al segretario. Se abbiamo la forza in Parlamento domani lo cacciamo, se no smettiamola e vediamo che cosa si può fare come azione politica pratica. Allora non è più una priorità astratta, statemi a sentire perché voglio fare una considerazione e una proposta. Le intercettazioni non è un argomento tra gli altri. Qua non leggiamo sui giornali le intercettazioni contro la mafia e la camorra. Qua leggiamo il camasutra della provincia italiana. E guardate che Bagnasco ha sì fatto una prolusione sulle responsabilità morali, giustamente tenendola separata di chi fa politica, di chi governa, di chi ha cariche pubbliche. Ma in passato, siccome io ho memoria e rispetto la conferenza episcopale, ha fatto una prolusione anche sull'uso irresponsabile dei mezzi di informazione. Allora, siamo tranquilli. Prendiamo la legge Mastella, che è stata già approvata al Senato della Repubblica e nell'altra legislatura, approviamola in 24 ore. Che prova si dà al Paese? Che la classe politica si interessa dei fatti suoi? No. Che la classe politica è in grado di decidere autonomamente su alcuni interessi talmente generali che sono stati proposti da un governo di un segno e oggi vengono accettati da un governo di un altro. Poi c'è la questione dell'economia. Subito, seconda questione. Si approvino dieci misure essenziali con un voto, non dico unanime, perché in Parlamento ci sono anche altre forze, ma un voto di larghissima maggioranza. E si dia un altro segnale di questo tipo. Poi si discute sulla possibilità che il governo modifichi la sua struttura e le sue cose, perché di fronte a delle assicurazioni e a degli atti concreti fatti dall'opposizione di questo tipo, naturalmente anche la maggioranza può interrogarsi. Ma in caso contrario è uno scontro che porta alla paralisi, quella che attualmente c'è. E il modo di ragionare di la torre non fa un passo avanti. Sulle intercettazioni la Mastella avrebbe fatto un giro lunghissimo perché siamo passati attraverso 50 stesure. Però raccoglieva il consenso di Geremicca. Adesso sento di nuovo Geremicca sulla prima parte del ragionamento, direttore. Prego, rapidamente. Le cose che lui dice sull'opposizione secondo me sono corrette e molto vere. Insomma, noi è tre anni che ragioniamo per forza di cose sull'onda e le notizie della maggioranza di governo. Fa un po' spavento però che in questi tre anni l'opposizione non sia riuscita a coagulare un fronte che a un certo punto potesse addirittura in Parlamento diventare maggioritario. Intendiamoci, non siamo in una legislatura dove non è successo nulla. Si sono spaccati i partiti, si sono state uscite all'Udc, è nata Flice, il Terzo Polo. È mancata, diciamo, o un'iniziativa politica o, come dire, una capacità di attrazione da parte del maggior partito di opposizione. Per cui ancora adesso, diciamo, ogni volta che si presenta una mozione di sfiducia si è costretti a dire così rafforziamo la maggioranza dei governi. La Torre, un SMS o Leone sul caso Bagnasco e sul resto. Prego. No, su questo, ora, io capisco che il modo migliore per cercare di salvare una situazione non più sostenibile è quella di aggrapparsi all'idea che siccome non c'è un'alternativa ci dobbiamo tenere questa situazione. Il problema non è questo. A parte il fatto che l'alternativa si misura in occasione delle elezioni e quando si voterà sarà in campo una alternativa concreta. Ma guardi che questo Paese ha già certificato l'esistenza di un'alternativa. L'ha certificata in occasione delle ultime elezioni amministrative. L'ha certificata in occasione di un voto, quello sul referendum, che non va strumentalizzato politicamente, intendiamoci. Non commetto questo errore di fare... Senatore, siamo a favore delle liberalizzazioni e l'Italia ha votato contro una delle poche liberalizzazioni che c'è stata. Scusami Liguori, il referendum ha certificato un voto chiaro contro quattro provvedimenti. Scusami Liguori. Lei lo dovrebbe rinnecare e non rivendicare. Perché è un voto contro le liberalizzazioni. E tant'è vero che voi eravate contrari. Tant'è vero la torre che voi eravate contrari. Abbiamo un'interpretazione diversa di quello che è accaduto e del tutto legittima la tua. Quel referendum ha bocciato quattro precisi provvedimenti di questo governo che hanno messo in discussione anche un certo modello di gestione dei beni comuni che invece noi avevamo impostato in maniera completamente diversa. Ma poi non voglio discutere del merito. Ora voglio soltanto dire che non è vero che in questi tre anni l'opposizione non ha cercato anche con un atteggiamento responsabile. Perché quando Liguori dice dovremmo approvare dieci misure sulla crescita non magari con un voto un anno. Ma noi non abbiamo fatto una opposizione pregiudiziale in occasione della manovra. Abbiamo avuto un atteggiamento responsabile. che si è approvata in tre giorni grazie anche all'intervento del Capo dello Stato che Dio ce lo preservi nei secoli dei secoli perché è l'unico punto ormai di riferimento. Ma voglio dire l'unico punto... Forse non tutti la pensano così nel suo partito. Io la penso così e non ho difficoltà a dirlo. Ma il punto dunque, questo argomento che siccome non appare chiara l'alternativa, cosa che a me non pare. Io per esempio ho molto chiare le idee su come prospettare un'alternativa a questo Paese. Probabilmente... Adesso ne parliamo perché... Ma non è un argomento forte questo. È la conferma della debolezza... Liguori, voglio andare da Leone. Ugo Magri, uno degli osservatori più attenti, oggi sulla stampa scrive, a proposito del monito che è arrivato da Bagnasco, in questo gorgo di passioni pochi strateghi berlusconiani sanno restare freddi. Quei pochi annotano che il cerchio si stringe. La scomunica della CEI arriva dopo il pronunciamento di Confindustria. Manca solo l'America per fare un plan dei poteri forti e guarda un po' in certi colloqui privati l'ambasciatore degli Stati Uniti si domanda quanto potrà resistere Silvio all'assedio del mondo intero. Leggo queste righe che forse sono, come dire, si spingono un po' avanti perché su tutti i quotidiani, cito il Corriere, l'imbarazzo dei credenti del PDL parlava per tutti e non di politica, riferito proprio alle parole di Bagnasco di ieri. Quanto hanno pesato queste affermazioni, sia pure senza una citazione diretta per il Presidente del Consiglio? Le posizioni... Lei è cattolico? Sì, sono cattolico. Non integralista, però sono cattolico. Non intendevo indagare sulla... Sì, sì, si figuri. Con tutta tranquillità. Le posizioni del Cardinale Bagnasco sono note, diciamo, ai margini anche della politica, ma non è questo che mi interessa. Chi dice che erano dirette a tutti non sbaglia, perché poi bisogna leggere per bene la prolusione per intiero, ci sono alcuni passaggi che fanno intendere tranquillamente... Non mi dica che i giornali però sono faziosi. No, no, non lo sto parlando. È chiaro che balza agli occhi che in questo momento, visto tutto quello che sta accadendo sul Presidente Berlusconi, intercettazioni, notti folli, tutto quello che viene fuori, è chiaro che si pensa per primo solo e soltanto al Presidente Berlusconi. Ma mi volete dire per quale motivo non dovrebbe parlare il Cardinale Bagnasco anche nei confronti di tanti altri esponenti, le cui intercettazioni non sono state magari mai messe sui giornali perché forse non sono mai avvenute. Ma ci sono posizioni di leader delle opposizioni e anche del centro-destra che hanno, che cozzano contro quella che è la cosiddetta morale della Chiesa. Parlo delle situazioni familiari, parlo di tutta una serie di cose che certo non sono... Essere cattolico non basta andare in Chiesa, battersi il petto la mattina, chiedere il perdono da parte di Gesù Cristo ed è finita. Anche i comportamenti si riferisce ai comportamenti. Allora mi volete dire per quale motivo chi è separato chi è separato e convive con un'altra non cozza contro i valori della Chiesa? Perché la Chiesa non può aver detto il Cardinale Bagnasco, dato un segnale anche a queste situazioni? Vale molto di più quello. Poi la Chiesa nel momento che sta passando proprio di natura personale e istituzionale è chiaro che si riferisce e si rivolge a tutto un contesto legato a quel tipo di società che purtroppo ci siamo dati e abbiamo adottato. E allora bisogna non strumentalizzare le cose, ben vengano i richiami di Bagnasco. Io non ho bisogno di richiami di Bagnasco, se ritengo di essere cattolico in maniera seria e coerente con i dettami della Chiesa mi comporto in quel modo. C'è chi invece predica bene e razzola male. Penso che anche a questi soggetti siano dirette quello che dice Bagnasco. Chiusa la vicenda di Bagnasco. Voglio fare solo un passo indietro per un attimino, poi chiudiamo il discorso, sulla giustizia perché qui si sta capovolgendo il silogismo, si sta facendo al rovescio. Dice vi siete scelti, dice la Torre, il terreno della giustizia. No, il terreno della giustizia non è che ce lo siamo scelti noi. Ce l'ha fatta scegliere quel tipo di magistratura e ce l'ha fatta scegliere chi politicamente affianca quel tipo di magistratura perché pensa che solo e soltanto attraverso le procure può abbattere Berlusconi. Ecco perché viene fuori a intermittenza il discorso delle intercettazioni. Ma non mi si venga a dire che si è fatto solo e soltanto l'azione di governo per salvaguardare Berlusconi o Romano. Scusate, abbiamo passato, io non ho detto nulla sul Romano, c'è la mozione di sfiducia domani. Siamo in presenza di una richiesta da parte del pubblico ministero di archiviazione dell'imputazione. Il GIP non dà l'archiviazione, c'è l'imputazione coatta da parte del pubblico ministero perché così è stato richiesto dal GIP. Mi dite se è o non è una richiesta che già in partenza vede un pubblico ministero che la pensa in un modo e un GIP che la pensa in un altro. Quanto meno dubbia è, mi volete dire, per quale motivo fare e approfittare di questa vicenda per andare ancora contro il governo con azioni singole di sfiducia? E poi dite che non pensiamo a fare altro. Bondi, tutto quello che è accaduto in quest'anno abbiamo perso tempo con questa sfiducia. Quando Romano sarà imputato, sarà indagato in maniera molto ma molto piena, deciderà lui che cosa fare. Ma adesso, in presenza di una incertezza da parte della magistratura, mi dite per quale motivo io dovrei... Ma deciderà lui, diciamo, che deciderà... Arrivo, arrivo, ho solo 30... No, no, ma la faccio parlare. Sto dicendo che c'è una vicenda che è incerta già da parte della magistratura. Questa è una cosa politica. Viene trasformata politicamente all'interno del... Ho Granata, ho Granata, ma ho anche la pubblicità. Granata, è subito dopo la pubblicità. Il contesto della richiesta di dimissione Romano non è quello che ha sottolineato Leone, e ne parleremo domani in Parlamento, è ben alto e ben più grave, sottolineato anche dal Presidente Napolitano. Per quanto riguarda poi il tentativo di arrambicarsi sugli specchi da parte del simpatico Presidente Leone sulla vicenda e sul senso delle parole di Bagnasco, sono indeciso se è più arrambicarsi sugli specchi questo tentativo o quello di Panizze, della maggioranza dei parlamentari del PDL, in riferimento alla parentela della rubi rubacuori con Mubarak, cioè siamo allo stesso livello di dato surreale, cioè sembra che si voglia nascondere attraverso un gioco di parole il riferimento chiaro che ha fatto il cardinale Bagnasco ad alcuni comportamenti pubblici che sono evidenti e che sono riferibili in maniera oggettiva a Silvio Berlusconi e a un determinato tipo di contesto in cui Silvio Berlusconi si è mosso. Le faccio completare. Poi in questo contesto... Ma io ti ho fatto un esempio preciso, per la Chiesa è peccato convivere in costanza di matrimonio, sì o no? È un peccato. Lascio Leone alle sue certezze, perché la Chiesa non lo dice. Ho la pubblicità, la faccio ritrovare. Tra le priorità, visto che parliamo di proposte, ho la pubblicità io però, visto che parliamo di proposte, uno per volta, è impossibile. Nei cassetti del Senato è ferma da anni, da qualche anno, un decreto importantissimo anticorruzione. Su questo si può trovare un accordo in Parlamento perché è un'emergenza avvertita dagli italiani molto più che il dato dell'intercettazione. Intercettazioni per Liguori, anticorruzione per Granata. Fra poco ho la pubblicità, ho la pubblicità. Allora, di nuovo in studio, Pionati, anche lei, discussione, come vedete, prosegue anche durante le pause. Pionati, anche lei parlamentare cattolico, Folli, oggi nel punto, dice, nel punto sul sole 24 ore, è come se la Chiesa considerasse chiusa o in via di superamento una lunga fase politica vissuta nel segno berlusconiano, come se guardasse con scetticismo e distacco ai tentativi della maggioranza di mostrarsi vitale nonostante tutto. Senza dubbio resta vigile l'attenzione per i provvedimenti graditi, ad esempio la legge cosiddetta sul fine vita. Ma si guarda oltre al destino di un centrodestra o di un'area moderata che dovrà sopravvivere a Berlusconi e riorganizzarsi per i nuovi tempi. E in questo senso è stato letto il riferimento che pure c'è nella prolusione di Bagnasco a un partito, a un movimento, a una nuova forza che possa riunire i cattolici. È credibile? Ma io a una riunificazione politica dei cattolici onestamente non credo. È fuori tempo, è fuori luogo e non avrebbe nemmeno quella funzione, quella spinta che ha avuto con la democrazia cristiana. Era un'altra fase politica e chi non lo capisce, anche storica. Ma ieri le critiche erano per Berlusconi? Ma guardi, il problema è che io personalmente, come regola generale da cattolico, ma non bigotto, non bisogna mai piegare quello che viene dalla Chiesa a una logica e una visione puramente politica. E' chiaro che quando si parla di responsabilità, chi più ha responsabilità più è tirato in causa. Ma dobbiamo anche ricordare che pochi giorni fa sulla stampa internazionale abbiamo letto della tentazione del Papa di dimettersi per la questione della pedofilia. Qui viviamo un'epoca veramente triste, nella quale oggettivamente ci sono elementi da tutte le parti, da qualunque angolazione la si voglia vedere, la situazione, elementi pesanti. Allora la Chiesa, più che colpire questo o quello, io sono contento dell'intervento di Bagnasco, io in alcuni incontri privati di pochissima importanza che ho avuto nei mesi scorsi sulla questione cattolica, dell'organizzazione, ho detto che io vedevo una Chiesa senza coraggio, una Chiesa che lanciava degli appelli periodicamente a un invito ai cattolici a entrare nella vita politica a portare, però rimanevano degli appelli sterili e poi la Chiesa si muoveva su un guibinare della vecchia politica. Allora che la Chiesa assume un atteggiamento coraggioso in un'epoca oscura, anche con un'autocritica profonda, perché il Papa, il Vescovo di Campagna che ha meditato qualche giorno fa sulle improprie dimissioni di fronte a una riorganizzazione, alla necessità di un rilancio anche di natura proprio contenutistica della presenza della Chiesa, che la Chiesa assume un'iniziativa coraggiosa, a me fa piacere, però che noi sbagliamo a volerla orientare esclusivamente in una direzione e piegandola a una visione politica. Perché io non credo la riorganizzazione dei cattolici in un solo partito? Quindi non c'è visione politica? C'è visione politica ma non personalizzata, cioè non è che il Papa, tante volte il Papa fa dei discorsi che da Papa e poi conoscendo proprio la qualità morale e l'altissima intellettualità di questo Papa, Urbi e Torbi, al mondo. E noi stiamo sempre sui giornali italiani a leggere che il Papa forse quella frase la riferiva a Berlusconi, piuttosto, non è così, la Chiesa non si muove su queste cose. Il grande cattolico diceva che però a pensare male si fa peccato. Ma la città che Andriotti non è un modello di buona politica secondo me ad oggi, quindi vorrei concludere sulla questione dell'organizzazione. Io personalmente ho sempre chiesto a Berlusconi e al centro-destra di rilanciare, perché nella politica i problemi devono essere prevenuti e non cavalcati. Allora quello che manca è questa capacità di riorganizzarsi prima che uno venga sepolto dalle macerie. Ma non credo all'unità politica dei cattolici, perché oggi, e questo se posso proprio veramente, proprio secondi, è anche il motivo per il quale non credo a un'alternativa a questo centro-destra sulle vecchie logiche della politica. Oggi la chiave di volta della situazione politica e anche della presenza dei cattolici in politica è la soluzione dei problemi, non la creazione di schieramenti maggioritari, perché noi siamo con l'acqua che ci entra in bocca. O sappiamo indicare rapidissimamente riforme e soluzioni ai problemi, o sappiamo indicare la via del rilancio morale di una presenza politica dei cattolici, o mettere insieme una maggioranza diversa, Casini viene con me, Casini viene con te, non serve a nulla, perché dopo una settimana da un cambio di maggioranza, se quella maggioranza non ha le idee chiare su cosa fare, fa la stessa medesima fine che può aver fatto, sta facendo il centro-destra. Quindi i cattolici che si mettono insieme non mi interessa, per fare cosa? Quello voglio sapere, non c'è la vecchia dc. A proposito di Casini, Casini leader dell'Udc, senatore Latorre, il dialogo con l'Udc che fine ha fatto? Cioè l'accordo dell'altro giorno, Bersani che si trova seduto insieme a Bendola e a Di Pietro e fa nascere il nuovo Ulivo, chiude una stagione politica o quel filo di dialogo resta? Nel senso che poi c'è tutto un dialogo, legge elettorale, ma ne parliamo dopo. A che fine ha fatto quella roba lì? Le rispondo subito, però prima mi faccia dire due parole sulla vicenda di Bagnasco. Sì. Perché io come Liguori, naturalmente abbiamo opinioni diverse su molte cose, però su un punto c'è un valore che io credo tra l'altro lui difenda anche con sincera passione, anche se poi arriva ad una conclusione diversa, che è quello della difesa dell'autonomia della politica. E io penso che anche nell'affrontare la discussione, le valutazioni di quello che dice il Cardinale Bagnasco non bisogna smarrire questo valore, tanto più da parte di chi come me è un streno difensore del principio della laicità dello Stato e della politica. Detto questo, anche più che concentrarmi su con chi ce l'aveva Bagnasco, io mi concentrerei su due passaggi che invece io ritengo politicamente i più rilevanti del discorso di Bagnasco. Il primo, la necessità di introdurre un cambiamento profondo nel clima politico e sociale del Paese. Cioè sostanzialmente si prende atto, e qui c'è una novità politica, parliamoci chiaro. Bagnasco dice sistematica denigrazione dell'avversario, c'è una critica alla sistematica denigrazione dell'avversario che corrompe lo spirito civico del Paese. Bagnasco fa una serie di considerazioni di questa natura, fa una riflessione critica anche secondo me sul modello politico-culturale che si è affermato in questi anni, c'è una serie di considerazioni che sono un terreno di discussione. Ma la cosa in questo Folli, in quell'articolo, dice una cosa importante che io condivido. Cioè la novità politica, se proprio vogliamo, è che le gerarchie ecclesiastiche che in questi anni, pur essendo divise tra di loro, c'erano due correnti di pensiero, ce n'era una che riteneva indispensabile avere un rapporto privilegiato col centro-destra, ce n'era una componente che era meno protesa in questa direzione, ma questa discussione si svolgeva in una maniera abbastanza ovattata. Oggi emerge con chiarezza questa consapevolezza che una stagione politica si è conclusa e cercano di indicare un terreno di confronto. Questo è l'elemento sul quale io credo si dovrebbe riflettere il centro-destra, anziché affrettarsi a dire, non ce l'aveva con Berlusconi, anche perché per alcuni aspetti è un po' complicato sostenere questa tessi, dovrebbe riflettere anche, secondo me, sul fatto che poi anche le gerarchie ecclesiastiche, buonultime, giumbono a prendere atto che è finita una stagione. Chiarissimo, rapporto con Casini. E questo è l'elemento. Quanto al rapporto con Casini, Bersani, che secondo me ha fatto bene ad andare a vasto, ha affrontato una discussione nella quale Bersani ha riconfermato quello che è il ruolo del Partito Democratico in questo momento, cioè quello di una forza che si vuole proporre come architrave di quella alternativa che si ritiene e che vuole unire le forze dell'opposizione attorno però ad un progetto concreto di cambiamento del Paese. Questo è il tema e lui lì è andato a ribadire che a partire da quella coalizione, chiamiamola così, noi vogliamo tenere aperto il confronto con la componente moderata perché riteniamo che ci siano le condizioni per costruire una prospettiva comune. Dopodiché è chiaro che questo non può significare inseguire all'infinito Casini, che deve essere lui a sciogliere le sue ambiguità e i suoi equivoci. Noi abbiamo indicato qual è il terreno del confronto, su questo terreno crediamo che ci siano le condizioni per costruire. Tra l'altro è una sciocchezza quella di dire che gli elettori dell'Udc non accettano perché gli elettori nelle ultime elezioni amministrative sono andati oltre i gruppi dirigenti dei rispettivi partiti e hanno votato candidati che erano addirittura per alcuni aspetti come Pisapia considerati candidati di estrema sinistra che invece ha raccolto un consenso ampio del mondo moderato e cattolico non di Bologna ma della città di Milano e questo è il terreno sul quale noi dobbiamo sviluppare la nostra iniziativa politica e il terreno sul quale noi vogliamo affrontare. Liguori, una risposta l'abbiamo avuta, l'aveva chiesta lei all'inizio sulle prospettive dell'opposizione, eccola arrivata dalla Torre adesso. Beh, concordo con la Torre su quella cosa che diceva prima dell'autonomia della politica e anche sulla sua lettura di Bagnasco, è molto interessante. La questione è questa, insomma, Bagnasco naturalmente premette e va premesso anche da noi che la critica avviene, si deve irradiare secondo le responsabilità, quindi chi ha più responsabilità se la prende di più, non c'è dubbio, ma è il discorso sulla politica che è interessante, fa molto ridere la distanza tra quello che noi stiamo discutendo stamattina con calma e con opinioni anche differenti e come le cose vengono presentate dai giornali, proprio in una sorta di infrazione dell'autonomia della politica. L'ha detto bene la Torre, ma insomma fa ridere pensare che Bagnasco, come molti giornali danno ad intendere, anche giornali tra i più grandi del Paese, parli sulla base delle intercettazioni, ma sta parlando al mondo della politica per quello che vede, ai comportamenti anche di criminalizzazione dell'avversario, a questo grima del Paese che diceva la Torre, bisogna però uscirne. Allora qui c'è un problema molto grave che io ho indicato fin dall'inizio della discussione, su cui non si fa nessun passo avanti, perché i potenziali interlocutori dell'opposizione su questo terreno, quelli più moderati, quelli che cercano gli accordi da ogni parte, al centro, che cercano un dialogo a distanza e anche un confronto, scontro con la maggioranza, ma che porti il Paese in una situazione diversa, sono tutti a loro volta interdetti dentro l'opposizione, sottoposti loro stessi. Parlavate prima del tentativo che c'è stato tanti anni fa della bicamerale, ha segnato il punto dal quale in poi D'Alema è stato indicato come una specie di demone anche all'interno della sua area elettorale, proprio perché si era permesso di aprire un dialogo. Per carità, è come uno che tocca il fuoco e non lo vuole più nemmeno avere vicino, da quel momento in poi si è ritratto, i suoi comportamenti e spesso le sue dichiarazioni sono state a mio avviso l'esatto opposto di quello che delle volte pensava e anche l'esatto opposto di quello che avrebbe fatto, ma sono state motivate dalla necessità che tutti hanno, l'avete visto anche in un recente dibattito ad un festival dell'unità, subire ingiustamente fischi, attacchi, perché? Perché viene considerato quello che nel passato ha aperto un atteggiamento e un approccio diverso. Allora, bisogna farla finita radicalmente con queste cose qui, bisogna farla finita radicalmente. Adesso mi faceva pensare e riflettere molto quello che ha detto Pionati. Pionati ha detto che il Papa ha pensato perfino di dimettersi per evidenziare la questione della pedofilia. Poi secondo me, gli hanno spiegato, è meglio che non lo fai perché come potrebbe avvenire, che so, per Berlusconi o per chiunque altro, immediatamente direbbero, si è dimesso, ecco perché è un modo per confessare di essere dentro. Pensate ad un Papa che con la vicenda vecchia della pedofilia non c'entra nulla e che rispetto per esempio al Papa precedente, che è un santo, però ha sollevato le questioni, ha aperto le questioni e mentre le apriva, era sulla stampa di tutto il mondo, come se fosse lui il responsabile, come se il suo pontificato fosse quello più coinvolto con la pedofilia, mentre invece il suo pontificato, quello di Benedetto XVI, è quello che per primo ha aperto le questioni, ha chiesto scusa. Ecco, allora mi faceva sorridere l'idea che Pionati mi ha messo in testa e mi ha ricordato, dice questo se si dimette nel paese in cui viviamo, nel paese che applica Bagnasco pedisseguamente a Berlusconi dalle intercettazioni, perché i giornali non smentiscono mai se stessi. I giornali pubblicano intercettazioni, Bagnasco parla del comportamento morale della classe politica e di chi ha responsabilità pubblica in Italia e i giornali dicono ecco, ha letto le nostre intercettazioni. Quindi non è un'entrata di oggi come se, ecco, che so, Bagnasco ieri si è letto sul fatto tutto il Kamasutra di Bari, poi ha detto adesso lo critico e oggi lo stesso giornale titola, ecco, adesso pure Bagnasco, l'avete visto che è d'accordo con noi? Liguori, Liguori, quindi Bagnasco non è un intervento... Questa è una pazzia italiana da cui bisogna uscire, no? Non è un intervento a gamba tesa quella della CEI nella vita politica italiana? No, quello della CEI è un intervento doveroso e sono molto anche contento di ricordare che altre volte, ma quello viene meno ricordato, è intervenuto sulla comunicazione italiana, cioè sulle cose che dico io e che diceva poco prima la Torre, e sulla magistratura italiana, sui comportamenti reciprochi tra le persone che hanno responsabilità pubbliche, lo diceva anche prima la Torre, e interverrà ancora su queste cose perché secondo me è un dovere della conferenza episcopale italiana, naturalmente esaminare le cose... Gli aspetti della vita. Però dico una cosa, caso mai può essere, tanto io vado via un po' prima, ma può essere uno stimolo, uno spunto. Voglio fare anche una critica, diciamo, alla Chiesa. La Chiesa dopo la caduta del muro ha pensato seriamente che si potesse superare, che potesse superare anche in Italia con grande forza l'unità politica dei cattolici. Secondo me ha contribuito ad accelerare quella che è stata la liquidazione del partito dei cattolici dell'ADC, che era un partito in cui comunque la collettività veniva salvata e i vari leader rappresentavano diverse anime e tenevano assieme un mondo molto vasto. Questo crollo dell'ADC è stato sostituito da una politica basata sulla leadership, come avviene in tutte le altre parti del mondo che non avevano questa anomalia italiana di essere così vicini alla Chiesa. Oggi la Chiesa è pentita di questo e vorrebbe tornare indietro. Secondo me, come ha detto Pionati, non si può tornare indietro e quindi devono rassegnarsi e mostrarsi meno pentiti per quella scelta. Quella scelta è stata fatta, si deve andare avanti, la politica oggi viene fatta, la politica in un paese laico viene fatta così come in Francia, come negli Stati Uniti, non c'è nulla come in Spagna, non c'è nulla da recriminare. E' una politica basata sulle leadership, caso mai bisogna favorire che queste leadership si esprimano, emergano con coraggio, ma anche con un atteggiamento di reciproca sussidiarietà, solidarietà. Grazie direttore, so che lei ci lascerà al termine di questo gruppo. Sì, vi lascerò tra poco. Geremica, è un'osservazione che condivide questa sul partito cattolico, sulla fine della democrazia cristiana e sull'impossibilità di ricreare una nuova forza cattolica? Io sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Pionati, circa la strattezza, forse c'è anche un dato antistorico nella ricerca della ricostruzione di un partito dei cattolichi, a noto dei cattolici, a noto che persino uno come Paolo comincia ad avere nostalgia della democrazia cristiana per quello che alla fine... Insomma ci siamo intesi Paolo, in che senso? Sì, la Chiesa ce l'ha purtroppo. Io su Bagnasco una cosa vorrei dirla, fatto salvo, altra cosa molto condivisibile, il principio dell'autonomia della politica, credo si possa aggiungere che quando la Chiesa interviene su questioni che non sono di dottrina, sulle quali come dire, soprattutto chi non è cattolico come me alza le braccia e naturalmente è questione loro, quando interviene sulla politica si espone anche a un lecito diritto di critica rispetto a quello che dice, visto che non si tratta di principi dottrinari. Io un paio di cose su Bagnasco vorrei, quindi con grande nettezza dirle, la prima mi sembra un intervento, io so che parlano così, però così generico che permette a noi di interrogarci se ce l'aveva con i separati, con i divorziati eccetera eccetera, quando credo che in tutta evidenza non fosse quello l'obiettivo, soltanto probabilmente andava detto con un po' più di chiarezza perché è anche di aiuto evitare a chi è oggetto di una critica di non poter svicolare. La seconda cosa, se è lecito, è anche molto in ritardo questo intervento. Quindi un riprovero di comunicazione? È molto in ritardo, cioè non c'è nulla che non fosse già stato segnalato dal povero collega Boffo che fu spianato all'esordio di quel sistema di reazione che è stata definita la macchina, non c'è assolutamente nulla di nuovo perché sono tre anni che noi assistiamo fatti salvo che cambiano dei nomi diciamo alle stesse vicende. Giustissima l'osservazione sui giornali che utilizzano, perché insomma come dire se si rivendica l'autonomia, come dire la politica bisognerebbe anche lasciare autonomia alla Chiesa di dire cose senza essere strumentalizzata. Ed è anche molto pericoloso perché si arruola la Chiesa nel proprio campo come lo si è fatto altre volte avendo poi amarissime sorprese. Io penso alla signora D'Addario che fu considerata una eroina del fronte al di Berlusconiano fino a poi smentire, mi fu estorta l'intervista, se domani legittimamente il Presidente della Cente viene per dire che la vita è poco difesa, l'aborto è una tragedia, il divorzio continua a essere una cosa inaccettabile, che cosa fanno i giornali della borghesia laica italiana, parlo di tutti i giornali compreso il nostro, che hanno molto puntato naturalmente su quello, che cosa fanno? Allora la Chiesa non può essere a intermittenza o buona o cattiva diciamo, quindi secondo me l'atteggiamento più corretto sarebbe quello diciamo di una pacata presa d'atto delle posizioni che esprime e dove è necessario anche segnalare che forse si poteva intervenire prima e anche con un po' più di chiarezza insomma. Granata. Allora io credo che la discussione si stia avviando su un binario serio perché è ovvio che la riflessione di Bagnasco è le cose che ha detto la Torre che condivido, cioè tenere separato, una volta si diceva ciò che è di Dio e ciò che è di Cesare è la base di ogni azione politica, ma Bagnasco voglio citarlo testualmente non per tornare a voler puntare il dito contro qualcuno perché altrimenti rischiamo di non far capire qual è stato il messaggio effettivo che ha voluto lanciare, che riguarda tutti, che riguarda fasce di immoralità, di corruzione, di affarismo, di licenza, che riguarda purtroppo lo spaccato dell'Italia, ci mancherebbe altro che questo tipo di analisi è sintetizzata antropologicamente nella sola persona di Silvio Berlusconi, nessuno può pensare questo, però Bagnasco dice si ringorrono racconti, a proposito se ha letto o meno le intercettazioni, che se comprovati rivelano stili di vita difficilmente compatibili con la dignità delle persone e il decoro delle istituzioni, quindi il riferimento è ovvio ed è quello spaccato che emerge da alcuni passaggi che sono avvenuti e che sono argomento di discussione, ora io credo che tra i cittadini emerga con forza non soltanto una sorta di moralismo di ritorno di facciata, siamo in una fase nella quale, ne parlavamo prima, quello che è il livello di ricaduta sulla cittadinanza della crisi economica assume dei connotati e dei perimetri spaventosi e il sentir parlare di lusso, donne, soldi, regalie, Bentley, Ferrari, yacht, certamente incide in una fase politica come questa in cui la gente arriva a stento a fine mese come solitamente si usa dire, allora la riflessione complessiva che la politica deve fare, rimettendo al centro la questione dell'etica pubblica, bisogna ricostruire un'etica pubblica attraverso un rapporto importante anche attraverso la selezione dei gruppi dirigenti e qui entrano in campo tutta una serie di questioni legate anche alla cosiddetta riforma elettorale che ha anche un altro tipo di valenza, bisogna tornare ad esempio a far sì che la gente, che il popolo, che la società possa scegliere i propri rappresentanti e possa scegliere in maniera trasparente e diretta. Sorridevo ieri leggendo un'analisi che fa Alemanno scagliandosi con una... io proporrò un comitato di difesa del consigliere regionale Minetti perché sembra che sia diventato il problema, la questione morale italiana sia diventata questa ragazza perché mi sembra come dire che hanno esacerbato la questione perché la scelta opzionale, la scelta discrezionale su chi mette nelle liste è riguardato tutti, Alemanno compresi, quindi Alemanno non può dire con questo sistema elettorale il problema è la Minetti perché offende poi tra l'altro che diventa un'offesa per Berlusconi e poi vorrei capire chi è che ha scelto la Minetti. Quindi bisogna fermare il gioco, rimettere in campo la politica, avere la capacità di indirizzare un ragionamento sull'etica pubblica e dei comportamenti e per questo, prima ho voluto sottolineare, potrebbe essere un terreno importante di incontro in Parlamento la volere individuare alcune necessità e ho indicato il decreto anticorruzione non perché è una mia fissazione ma perché la questione della corruzione incide, ripeto, pesantemente sui conti pubblici perché sarebbe un segnale importante per la società italiana ma un decreto anticorruzione... Perfetto, anticorruzione ma e la legge elettorale può essere l'altro passaggio? La legge elettorale deve essere l'altro passaggio, noi abbiamo aderito alla raccolta di firme perché il referendum comunque sta scuotendo una situazione che a livello parlamentare non riuscirà ad andare avanti di un centimetro e il Parlamento non riuscirà mai a fare un accordo per la legge elettorale, serve tornare a dare la possibilità ai cittadini di indicare i propri rappresentanti. Leone, basta la maggioranza semplice per fare una legge elettorale e la maggioranza ci sta lavorando, si parla di questo modello spagnolo? Sì, ci può essere secondo me alla fine poi anche un'intesa su questo ma naturalmente bisogna smettere di pensare che contemporaneamente si possa dire a Berlusconi vattene a casa che poi dopo ci pensiamo noi per la legge elettorale, si può arrivare anche con Berlusconi a chiudere il discorso sulla legge elettorale. Tra l'altro non è stato dato atto forse che persino Bagnasco ha fatto un richiamo alla legge elettorale nel momento in cui ha detto che bisogna ridare la titolarità ai cittadini e quindi sì, era evidente che si riferiva anche a quello, io non sono uno di quelli che dice che quando la Chiesa parla e fa sulla politica spara addosso, ecco io sono per il principio della città dello Stato e sono per l'autonomia della politica. Ma sulla legge elettorale il perimetro è quello della maggioranza o è più ampio? Bisogna coinvolgere l'opposizione? No, ha coinvolto anche l'opposizione sicuramente, non si possono fare... Polemico, Geremicca? No, non è polemico, si invoca sempre il rapporto con l'opposizione e non lo si pratica mai. Sì, sì, questo è vero, però se si comprende quello che è venuto fuori oggi qui dentro nel nostro, tra virgolette, piccolo parlo per me, è che l'esigenza di mettere da parte questo clima che c'è, la criminalizzazione dell'avversario di cui parla Bagnasco, ecco perché dico che ha tutto campo l'intervento di Bagnasco, la criminalizzazione dell'avversario, il clima che si è creato deve essere messo da parte, io non posso sentirmi dire ogni giorno sistematicamente da parte di Pietro i criminali della maggioranza, i criminali della maggioranza, i criminali non ce ne sono, io mi posso intercettare quanto vogliono, io sono tranquillo, ma perché vivere in questo clima, ecco perché la passione su certi argomenti che mi viene fuori è legata solo e soltanto a questo, clima che deve essere naturalmente appianato e superato, superato questo clima, smetterla, visto che c'è il discorso della crisi che va pure sollevato e andare di pari passo sul tentativo di salvarci dalla crisi e portare avanti una serie di riforme tra cui la legge elettorale che può solo, ormai viene invocata da tutti, anche da coloro i quali l'hanno voluta e l'hanno pretesa. Nel catalogo ci sono intercettazioni e legge elettorale quindi? Intercettazioni e legge elettorale sono sicuramente delle priorità, ma non perché le intercettazioni le vogliamo noi, perché altrimenti noi continueremo ad avere... Le vogliono gli italiani, le vogliono anche gli italiani, perché no? Se vanno nei supermercati o fuori alle fabbrici a spiegare che il Parlamento da ora in poi si occupa di intercettazioni... Io ho detto anche, ma non è ironia fuori posto, perché io ho detto anche, ma io voglio vedere se le sue notti vengono messe sui giornali, scusi, ma per quale motivo bisogna andare avanti in questo modo? Non faccio ironia inutile, io dico che il legislatore deve fare tutto, deve fare tutto. È una critica, non è un'ironia. Avete dimostrato che non siete in grado di fare due cose contemporaneamente, tante volte nemmeno una. Ma me le dice, me le dice quali sono? Tutte quelle che rivendica, per esempio... Non può parlare a bambera così e buttare l'aria del risaggio, lei me lo deve dire. Riforma della giustizia, è tre anni che ne parlate, avete dimostrato di non essere in grado Abbiamo parlato, abbiamo parlato che chi non vuole, chi tocca la giustizia muore, scusatemi. Ho la pubblicità, ho la pubblicità, io ringrazio il direttore Liguori a Milano, riprendiamo fra un istante, grazie Liguori. Arrivederci, grazie a voi. Allora, 9.27, solo dieci minuti per l'ultima parte di Omnibus, abbiamo aperto un altro vaso di Pandora, che è quello della legge elettorale, ma io non posso, Geremicca, non affrontare l'altro tema importante del giorno, che resta l'economia, la crescita, Berlusconi-Tremonti. Che cosa oggi si dice che dovrebbe esserci questo incontro chiarificatore tra il Presidente del Consiglio e il suo Ministro dell'Economia? Ministro dell'Economia che si fa scudo in qualche maniera ieri della ritrovata intesa con Bossi, che ha incontrato a Milano nella sede della Lega. Lei come crede che vada a finire? Si potrà, intanto, la cosa che interessa a tutti è trovare le misure per la crescita, avere un buon decreto con i 27 punti che diceva il Presidente del Consiglio e consentire di ripartire, oppure trascineremo anche questa vicenda che peserà naturalmente su di noi e sulla nostra economia? Noi dicevamo prima che correttamente tu presentavi come una notizia il fatto che si incontrano il Presidente del Consiglio e il suo Ministro più importante dopo ormai mesi, ma molti mesi, di guerra fredda. Adesso di come vada l'incontro e quali siano i rapporti personali, se ci sarà tra i due onestamente mi sembra tema di secondo piano assolutamente, il tema importante è se queste misure, questo cosiddetto pacchetto crescita vede la luce. Io mi pare di capire che le condizioni sono tali per cui sarà molto difficile che ci si possa aspettare, un po' per carenza di fondi, un po' per le linee diverse, per il disaccordo che c'è all'interno della maggioranza su da dove cominciare, su cosa mettere mano, ho l'impressione che sia difficile aspettarsi cose rivoluzionarie, anche perché sullo sfondo tu vuoi parlare d'altro, ma io tornerò in un momento sulla legge elettorale semplicemente perché come dire... Non avevo dubbi. No, ma ci avviciniamo a un momento in cui il sistema dei partiti deve decidere alcune cose molto importanti, la prima scelta non è se fare la legge elettorale perché è dalla legislatura precedente che tutti dicono che la legge elettorale questa non va bene, ma non viene modificata, quindi evidentemente non va bene ma si può sopportare. Ora c'è la scheggia impazzita del referendum, bisogna notare che è escluso il Porcellum che nacque per una ragione ben precisa che era quella di impedire che il governo Prodi avesse al Senato ed è la legge perfetta perché anche gli ultimi sondaggi adesso dicono che qualunque sia l'alleanza che si fa al Senato ci saranno problemi, ma comunque la prima questione è che loro devono decidere se andare a elezioni anticipate l'anno prossimo nel 2012 facendo saltare il referendum e quindi probabilmente facendo prima una legge elettorale a meno che queste non siano tutte chiacchiere e si torna a votare col Porcellum oppure procedere per incapacità di varare una nuova legge diciamo al referendum slittando le elezioni all'anno successivo. È chiaro che un altro anno e mezzo di governo così però io non so se il Paese e di rapporti politici di questa qualità non so se il Paese riesce a reggerlo onestamente. Granata? Io condivido l'analisi perché dopo la spinta importante delle scorse amministrative ma anche di quello che hanno significato il referendum, ne parlava prima la Torre, adesso il referendum è diventata un'espressione di una dinamica che è partita nella società italiana che non si può che arrestare attraverso il ricorso ad elezioni nel 2012 perché il tema del referendum ammesso che poi passi al vaglio dell'ammissibilità se verrà ammesso è chiaro che di fatto accelera un processo che porta alle elezioni perché un Parlamento dove non ci si trova più su un terreno comune di discussione perché guardate alcune ferite profonde, io parlo quella del 14 dicembre, non sono mai state sanate e tutte le questioni che vanno avanti e che in questi giorni, questa settimana, domani con la mozione del Ministro Romano accendono sempre più lo scondo mentre il Parlamento stenta ad occuparsi anzi non si occupa prioritariamente delle grandi emergenze dell'Italia. Quindi io ritengo che il referendum stia accelerando la fine della legislatura che probabilmente nel 2012 insieme ad un'importante tornata di reazione amministrativa si arriverà allo snodo e questo pone tutto un altro tema perché da qui al 2012 anche da parte di quelle forze dalla nostra posizione di destra repubblicana e legalitaria al PD, a Sella, all'IDV bisogna capire che tipo di dinamica porre in essere per arrivare a un'alternativa a quello che si definisce il berlusconismo che poi altro non è che quello a cui abbiamo assistito in questi anni con un appiattimento spavendoso su alcune politiche della Lega che poi vengono contrastate. Io voglio ribadire un ultimo concetto. Il voto di domani ne parleremo in Parlamento ma la posizione della Lega e soprattutto del Ministro degli Interni, di un Ministro degli Interni che bene ha fatto nel contrasto alle mafie è francamente incomprensibile soprattutto alla base della Lega. Pionati? Ma io credo che una cosa che ha detto prima la Torre sia molto vera, cioè che si è verificato nelle amministrative che il corpo elettorale ha risposto in maniera molto diversa da quello che si aspettavano le classi dirigenti. Questo sta avvenendo. Sicuramente è vero. Per questo sta avvenendo, cioè che la società civile è molto più avanti della società politica. Allora questa è la conseguenza qual è? Al di là se si vota nel 2012, nel 2010, tutti questi giochi onestamente mi appassionano poco, o c'è una capacità e anche alla luce di quello che ha detto Bagnasco, del sistema politico parlamentare di rifondarsi dall'interno o verremo tutti spazzati via e non ci sarà maggioranza capace di governare meglio di quella che verrà eventualmente sostituita. Oggi il terreno sul quale io penso per esempio che non sia possibile e praticabile la ricostruzione di un partito cattolico, il che vedo io e sul quale mi sto battendo da anni con le mie modestissime forze è quello della riorganizzazione del bipolarismo italiano. La partita in corso è questa. Se il bipolarismo resta, se si riorganizza, se diventa una cosa seria e virtuosa per il Paese. Questo da una parte e dall'altra. Il vero gioco è qui. Quindi le segreterie politiche dei partiti devono capire che le indese trasversali tra loro per creare nuove o vecchie maggioranze non servono a nulla. Se non c'è un modello nuovo di politica istituzionale che risolve i problemi dell'Italia, chiunque va al governo nel giro di poche settimane verrà messo in condizione di non poter operare. La torre. Io voglio fare una considerazione estremamente realistica. Io penso che in questo Parlamento le condizioni per cambiare la legge elettorale non ci siano. Una maggioranza c'è però. No, non c'è neanche una maggioranza perché l'avvisaglia l'abbiamo avuto quando Alfano ha annunciato un progetto di disegno di riforma elettorale che la Lega ha già detto si fa prima la riforma costituzionale. Dunque questi margini non ci sono e anche questa storia del dialogo con l'opposizione sul tema della riforma elettorale è un mantra priva di qualsiasi consistenza. Dunque cosa prevedo? Io prevedo realisticamente che si attenderà la decisione della Corte Costituzionale sulla ammissibilità o meno del referendum e a quel punto penso che il centrodestra di fronte a qualora fosse ammesso il referendum punterà alle elezioni anticipate. Anche se probabilmente c'è una discussione su valutare se è il caso di fare o meno il referendum, le cose che diceva Geremic probabilmente rispondono. Se dico quello che io penso serva al Paese io credo che in questa situazione non si può più andare avanti e siccome in questo Parlamento, ma qui esprimo un'opinione molto personale, non vedo margini per un'altra soluzione. Credo che prima si voti e meglio è per tutti. Prego Leone. Io ritengo che, come diceva Granata prima, il referendum serve comunque, ammesso, non ammesso, è da pungolo ed è da stimolo, quantomeno a tentare di cambiare la legge elettorale. Che non va più bene quindi? Non è che non va più bene. Da più parti evidentemente arrivano le grida di dolore e bisogna prendere atto di come la pensano ormai anche quelli che l'hanno voluta quella legge e si deve cambiare. Il tentativo di cambiarla è chiaro che a fine legislatura, in un momento politico come questo, è molto ma molto difficoltoso. Però se già si parte, ecco perché la Torre è convinto, dice, con le opposizioni voi non avrete l'aiuto dell'opposizione. Perché nel momento in cui viene fuori, al di là della posizione della legge, perché anche all'interno nostro è chiaro che ci sono posizioni diverse sul cambio della legge elettorale. Nel momento in cui Angelino Alfano parte con una proposta e già dall'altra parte si dice, è una barzelletta, non ci crediamo. Prima di vedere la proposta, prima di vedere su che cosa dica, insomma, mi riesce a svelenire il clima e allora qualcosa di utile si può ancora fare. Altrimenti ritengo che bisogna pensare a venire fuori solo e soltanto da questa crisi che sta attanagliando non solo l'Italia e vedere come fare per salvare il Paese. Grazie a Geremì Capionati alla Torre, all'Onorevole Leone a Granata. Adesso c'è Coffee Break e subito dopo 13.30 telegiornale alle 7 di domani mattina. Torna Omnibus naturalmente. Grazie, arrivederci.